Mamma 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 chiudi 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 tutto, chiudi tutto, chiudi Oh mio Dio 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 Che cosa ho fatto? Ah, ho condannato il mondo Oh mio Dio Che cavolo ho fatto? Che cosa ho fatto? Oh Guardate che roba ragazzi Ai 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 ai, no 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 Guardate che roba Oh mio Dio ragazzi Ma qua sotto, ah, no no Non voglio morire, non voglio morire Guardate che roba, sto distruggendo Tutto lo strato di TNT Incredibile Ma è bellissimo Oh Eh, che cavolo è successo? Ma sta continuando ad esplodere Ok ragazzi Abbiamo distrutto Minecraft Il mio computer sta per esplodere Se sentite Sentite le botte di TNT Tutti gli strati Oh mio Dio Mamma mia Ho distrutto tutto Ho disintegrato tutto Ragazzi Mamma mia Se ancora stanno esplodendo le TNT Guardate Proviamo ad andare contro le TNT Ah, ah È impossibile Mamma mia Se le sento ancora esplodere Sentite Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto Fatemi 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 Fatemi